Musica Non è possibile ignorarlo Abbandonare tutti quei soldi che noi piccoli youtubers e grossi youtubers portiamo Partecipero a Romics grazie al mio network Megatube Per chi non sa che cos'è un network È quel gruppo di persone che lavorano dietro ai youtubers per aiutarli Per aiutarli a portare dei contenuti veramente sempre più innovativi e più belli per voi Per aiutarvi, per intrattenere tutti voi e anche me Perché io ancora seguo youtube e ho ancora questo piccolo lasso di tempo In cui mi posso divertire guardando un po' di video degli altri youtuber più grossi Non nego di farlo Ho imparato grazie a loro e continuerò a seguirli Quindi sarò al Romics al padiglione 5 e 6 Più al 6 perché lo stand di Megatube sta al 6 Ma anche al 5 perché mi divertirò a girare un po' tutta la fiera Ma siccome la fiera è abbastanza grossa farò, spero, quei due padiglioni per intero E forse anche qualcos'altro Quindi mi troverete molta più probabilità lì Se siete interessati a incontrarmi Se non siete interessati a incontrarmi Mi troverete lì Quindi evitatevi Se non siete interessati evitatevi di pensare per lì E la Romics non ci sono soltanto youtubers Ci sono anche i fumetti Eh? Non ci avreste mai creduto Ci sono anche fumetti e cosplay Tanti cosplay Per chi non sa che cos'è un cosplay è un vestito Un vestito che raffigura il vostro personaggio preferito di un videogioco o di un manga o di un anime E che vi piace moltissimo Prendete i suoi vestiti e lo ricopiate E vi impersonificate il vostro Il vostro personaggio preferito È un modo per divertirti in questo modo Sì E sono anche molto gustosi i cosplay Costano veramente tanto Troppo Cioè Troppo Per un vestito Per pagare così tanto è A mio parere eccessivo Quindi Se siete interessati a incontrarvi E a incontrare tutti gli altri youtubers Che porteranno magliette Video Divertenti E tante tante belle cose E anche altri youtubers più piccoli Venite a incontrarci al Fromix E io ci sarò al 4 Ma la fiera dura dall'1 al 4 Scegliete voi Quando andarci Cioè È iniziata ieri Cioè ieri Oggi Domani Dopodomani Eh Se siete interessati a venire Fateci un salto Noi ci rivediamo in un prossimo video Vi ricordo Vi ringrazio tantissimo per la visione Vi ricordo di lasciare un like Un commento Di condividere Iscrivete la pagina Facebook Alla pagina di Instagram Che come sempre Dovete la descrizione Mi sono fatto iscrivano soltanto per voi Perché per me Instagram È il social più marcio Che esista Dopo su Perché su Non è un social È lo spam assoluto Non è un social Quindi per me Instagram è veramente marcio È soltanto apparenza Tutte le persone che si fanno le foto lì È per apparenza Quindi Ecco perché lo considero marcio Quindi iscrivete anche Passate anche per il mio profilo di Instagram Iscrivete al canale Se ancora non l'avete fatto Perché è importante iscrivervi al canale Cioè Per me è importantissimo E non è anche per gli altri Perché siete una comunità Una comunità che seguite me Ok? Quindi è importantissimo iscriversi Molto Molto importante Noi ci rivediamo in un prossimo video Ciao Ciao